Bentonati ragazzi, io sono Salater52 e oggi continuiamo la nostra avventura su Marvel's Spider-Man. Ci dovrebbe essere un dialogo con MJ adesso e ve lo lascio sentire. Certo! In effetti stavo andando al Fist Center per chiedere un parere a Martin Lee. Martin Lee? Perché? È laureato in storia dell'arte. Magari può dirmi qualcosa sulle origini della maschera. Ok, tienimi aggiornata. Ho l'impressione che ci sia qualcosa di grosso sotto e voglio essere io a raccontare questa storia. D'accordo! Quindi posso chiamarti... sempre? Certo! Sempre e comunque! Ho fatto una pausa di circa una mezz'oretta. Infatti ho appena avviato il gioco e non sono dove avevo salvato prima. Però l'obiettivo nostro è lo stesso. Dobbiamo andare da Martin Lee per scoprire cos'è questa maschera che avevano quei tizi sul volto. Il dialogo con MJ non è stato fatto di nuovo, quindi ho fatto bene a salvarmelo, ecco, tra virgolette, prima. Anche se può darsi che ci chiamerà adesso, però comunque ve l'ho lasciato, immagino, anche perché non lo so ancora. Però quella era la mia intenzione, di lasciarvelo. Visto che nello scorso episodio ci ho parlato sopra e in questo ve l'ho lasciato subito all'inizio. Ah, ho trovato il mio secondo zaino. Bello quel pupazzetto, me lo comprerei molto volentieri. 55 ce ne sono di zaini, siamo solo a due. Immagino che ci sia un trofeo, se li trovo tutti a 55. Beh, penso proprio di sì. Comunque, nel frattempo che J. Jonah Jameson parla e sembra non dire niente di interessante, direi di andare al nostro obiettivo, anche perché non ho ancora imparato a distinguere le missioni secondarie da quella principale. Questa qua è sicuramente principale, le secondarie non sembrano essere in mappa. Direi quindi di vedere che cosa succede. Ma è la cutscene che dovremmo vedere o è altro? Perché se è così, mi sa che si è buggato il simbolino del caricamento. Ok, no, quindi era una schermata di caricamento. Carina, penso che ve la lascerò questa. Perché mi è piaciuta. Cioè, tutte le schermate di caricamento che non avete visto, perché immagino di averle tagliate. Ma credo proprio di sì, ce ne sono troppe e durano anche 20 secondi e, sai, 20 secondi. Sono tutte schermate con Spider-Man fermo in una posa. Questa qua invece, non lo so, era più carina, anche se non c'era niente di che, però col telefono e il panino in mano, boh, non lo so, mi è piaciuta. Dobbiamo trovare la stanza dove c'è Martin Lee e provo ad entrare in tutte le stanze, anche perché non ho idea di dove è il suo ufficio, se ha un ufficio, oppure se è in mezzo alla gente così a caso, anche se non penso. Qui, dai, qui per forza, ok, si può pure aprire. Peter, serve aiuto? Scusi il disturbo, signor Lee. Una mia amica, Mary Jane, fa la giornalista. Sta scrivendo un articolo su degli oggetti d'arte e ha trovato questa maschera. Vorrebbe avere il parere di un esperto, e siccome so della sua laurea... Questa probabilmente è la prima volta che mi serve a qualcosa. Fammi vedere. Interessante. Dove l'hai trovata? Ah, non... non so di preciso. Perché? Sa cos'è? La copia di un'antica maschera teatrale cinese. Non ne vedevo da anni. Questo simbolo si può tradurre con demone. Demone? Mio padre mi leggeva storie di fantasmi con questa maschera da bambino. Mi spaventava tanto. Peter, ascolta. Questa maschera... Può essere collegata a gente pericolosa. Mary Jane dovrebbe lasciar perdere. Pensa che sia in pericolo. Ah, non lo so. Ma perché rischiare? In realtà ho un brutto presentimento su Martin Lee, perché mentre parlava ascoltiamo cosa dice Peter a MJ. Significa demone. Lee era terrorizzato. Non l'avevo mai visto così. Ti consiglia di lasciar perdere. Neanche per sogno. Tu credi che Martin ci nasconda qualcosa? No, ma sembrava come turbato da strani ricordi. A quanto ne so, ha avuto un'infanzia traumatica. Beh, può darsi. Demoni, eh? È un nome accattivante. Ok, mi metto a scrivere. A dopo. A me non ha dato proprio quell'impressione lì. Secondo me nasconde qualcosa. Non era preoccupato o impaurito da quella maschera. Anzi, secondo me la conosceva bene. Almeno dall'espressione che ha fatto e da quello che ho capito dalle sue parole. Poi può essere che mi sbaglio, però non lo so. Comunque la storia si fa sempre più interessante. Ehm, con la scorsa 7, 8. Ok. In realtà quando ho spento prima, ero salito sia al 6 che al 7. Voglio vedermi un paio di cose qui. Oddio. Ma posso cambiare costume? Ah! Ehm, ok. Bellissimi. Questo pure sì è bello, però mi sa che lo devo comprare. Ah sì, mi servono i gettoni. Ma questo dei Fantastici 4? Ok, mi hai visto. Questo bianco è fighissimo. No, questo qua è fighissimo. Bello. Anche questo. Ma questo è una scimmia notturna. Va bene. Ehm. Non... Cioè, mi piace, però non penso che lo userò qui in gioco. Per ora... Vi dico che forse continuo ad usare questo... Cioè, quello del gioco principale. Però più avanti mi sa che lo cambio. Magari giusto per provare qualche costume diverso. Eh... Però per adesso voglio continuare ad usare questo qua anche perché mi piace un sacco. Eh... Vedo un paio di cose. Ehm... Se... Faccio qualche upgrade. Eh... Ve lo faccio vedere. Se no, taglio tutto. Sto vedendo che ho 6 punti abilità. Quindi direi di sbloccare sia difensore... Schivata perfetta, va bene. Che lanciatele. Giusto per averli sbloccati. Così posso continuare questi rami. E... Considerando che ne ho ancora 4 di punti abilità. Eh... Mi leggo un po' che fanno tutte queste cose. E... Decido quale usare. Eh... Cioè, quale mettere. Allora... Direi di fare questo qua, delle pistole. Tenendo premuto triangolo possiamo togliere la pistola o il manganello. Cioè, armi di piccole taglie ai nemici. E poi costava 1. Eh... Leggo anche gli altri e vedo che fare. Questo upgrade lo faccio subito. Perché se premo quadrato mentre sto attaccando. Eh... Mi dà della concentrazione bonus. Quindi... Eh... Buonissimo come upgrade. Ne faccio altri due e poi andiamo avanti. Allora, li ho letti tutti e tre. E i due che sto facendo adesso sono i migliori. Per adesso poi ovviamente potenzieremo tutto. Il primo praticamente mi fa fare due volte X mentre sono in volo con Spider-Man. Eh... Mentre l'altro mi fa fare più danni quando sto picchiando la gente in aria. Eh... Visto che ho usato molto spesso questa cosa. Eh... Mi è molto utile. Visto che non abbiamo un obiettivo. Io mi giro un po' la città per trovare qualcosa di interessante. E appena succede qualcosa... Eh... Ovviamente la vedrete. Ma per voi passerà un secondo. Per me... Non penso. Peter, ho parlato con il signor Lee e sembrava turbato. Ti sei messo nei guai? No, è solo una storia che sta seguendo Mary Jane. Tranquilla, la tengo d'occhio io. Dimmi che siete tornati insieme. No, ma ci parliamo. Un passo alla volta. Mi spiace per il signor Lee. È solo preoccupato. In effetti mi ha quasi commosso. So che ti vuole bene. E ammira la dedizione con cui aiuti gli altri. Forse gli ricordi il suo passato. Si rivede in te. Entrambi orfani e persone brillanti. L'ammirazione è reciproca. Hai un capo eccellente, Zia May. Glielo riferirò. A presto, Peter. Io in realtà conosco poco Martin Lee. Non voglio dire né niente né a favore né contro di lui. Però per me non me la conta giusta. E tutto questo grand'uomo non mi sembra. Peter, sono il dottor Octavius. Ehi, come va? C'è il caporale di Lancia Texedor per una prova. L'avevo totalmente rimosso. Voglio dire, lo ricordavo perfettamente, ma arrivo subito. Sta diventando un'abitudine, Parker. Devi rimetterti in sesto. Questi ritardi non sono da te. Ha ragione. Ho perso la cognizione del tempo. Ecco il motivo per cui non avevamo l'obiettivo. Perché Peter non se lo ricordava. Comunque sto diventando pazzo perché sento il rumore dello zaino, ma non lo trovo. Vorrei trovarlo. Infatti sono qui mentre tutti quanti ci stanno chiamando. Solo che non riesco a trovarlo. Il suo non c'è, ma non capisco dove è nascosto. Lanciamo i bidoni contro le pareti. Magari lo trovo. Forse sta dietro qualcosa. È per questo che non lo vedo. Comunque direi di lasciare stare. Magari più avanti. Imparerò a trovarli. Adesso andiamo all'obiettivo e come sempre se c'è un dialogo ve lo lascio, se no no. Anche se dovrei fare questo inseguimento. Però mi sa di sempre la solita storia. Infatti sì. Ok, no, ho sbagliato tasto. Giustamente prima ho stato fortunato. E ho imparato in realtà senza imparare. Ora devo farlo con calma. Ma perfetto. Vabbè, a questo punto sta rapina ve la lascio. Appena dopo cerchiamo di arrivare al nostro obiettivo. Questa volta ce l'ho fatta ad arrivare a premere quadrato con tutto il cerchio. Abbiamo finito. Arriva altra gente. No, abbiamo finito. Ok. Quindi possiamo andare al nostro obiettivo. E invece no. Perfetto. Vabbè, direi che non è difficile. È sempre buono. Perché posso così imparare ancora a combattere. Bellissimo che si scontrano. Hanno lo stesso pattern mentre si stavano rialzando. Vabbè. Abbiamo praticamente finito. Quindi basta così. Ah, non è ancora morto questo. Vabbè, via. Via, via. Ok. Possiamo andare avanti finalmente. Oh no, sento di nuovo il suono di uno zaino. Aspettate, questo è eccolo qua. Sì, quello è lo zaino. Aspetta, no, Spider-Man torna indietro. Aiuto, come si muove sui muri? Ok, tutto al contrario, va bene. Terzo zaino. Lancia ragnatele classico. 3 di 55. Però, devo dire che era pure vicino al nostro obiettivo. Comunque ho trovato uno zaino. Quindi alla fine devo sentire dove è il suono più forte. Prima ci ho provato, ma non ci sono riuscito. E ora state pure vedendo quanto sono lunghi i caricamenti. Ve lo lascio questo giusto perché stavo parlando. Però li taglio appunto proprio perché sono, diciamo, troppo lunghi. Anche se dura un paio di secondi. Però un paio di secondi è fastidioso da vedere. è nero e basta. Come funziona? Proprio come un braccio vero. Pensa a un'azione da eseguire e... Sì? Ehi! Ehi! Ma che state facendo? Questo posto è a rischio. Fermatevi subito! Sono strumenti molto delicati. Basta! Chiamo immediatamente l'ufficio del sindaco. Peter Parker! Come stai, accidenti? Parli del diavolo. Signor Osborne! Oh, ti prego, da quanto ci conosciamo? Sindaco Osborne! Chiamami Norman. Solo Norman. Che cosa credi di fare? La sovvenzione che hai firmato prevede diverse norme di sicurezza. Non è la tua prima infrazione. Eh, eravamo esentati. Da me? Avrei dovuto confiscarvi il materiale da tempo. Ma... Ho fatto passi da gigante. Grazie per il tuo grande contributo alla nostra nazione. Questi signori ti accompagneranno alla Oscorp Robotics, dove riceverai una protesi all'avanguardia. È gratuito. Le norme di sicurezza non c'entrano niente, è vero? Cerco solo di aiutarti, Otto. Puoi proseguire le tue ricerche... ...in un ambiente più sicuro. Alla Oscorp. Sei sempre stato il più intelligente. E tu non sei cambiato per niente. E anche tu. Ehi, Peter. Harry rientrerà dall'Europa all'inizio del prossimo anno. Magari potreste avviare quell'attività di cui avevate discusso. Sai, le opportunità vanno colte. Piano, stia attento. Piano. Vabbè, non hanno preso tutto. Potremmo ripartire insieme. Peter. È finita. Senza i fondi comunali non sarò più in grado di pagarti. Ho bisogno di riflettere. Fossei te. Mi cercherei un lavoro. Ma non ho capito per quale motivo Norman Osborn è venuto a farci smantellare tutto. Forse ce lo spiegheranno più avanti, magari per un passato che hanno avuto lui e Otto qui nel gioco ovviamente. Però non lo so, cioè, mi sembra esagerato. A parte della scusa delle norme di sicurezza, ma in realtà Norman Osborn voleva solamente far smettere Otto di aiutare la gente. Comunque, prima che arrivassi da Otto e succedesse tutto questo, Peter ha esclamato e se non ho poca sicurezza, dovrei attivare qualche torre. Quindi direi di farlo. Sono appena arrivato qui apposta per attivare questa torre. Effettivamente servono moltissimo. E anche perché non avevo la mappa di questa parte di città. Quindi, anche per orientarmi meglio, vedendo la minimappa, è meglio a questo punto attivare tutte le torri che posso. Magari me le metto ad attivare proprio tutte e tutte. Però, se le attivo tutte in un'unica... cioè, adesso, ad esempio, non ve le faccio vedere tutte quante, ovviamente. Però non penso, anche perché dovrei sennò girarmi praticamente tutta la mappa e in realtà vorrei farlo più a gradi che in un'unica volta. Però, visto che mi manca solamente una torre in questa zona, direi a questo punto di andarci. È pure vicina. È praticamente questo palazzo qui alto. Però, diciamo che c'è molto da fare di cose secondarie. Ad esempio, adesso sto andando ad una rapina che è qui giù. Perfetto, guardate quanta gente. E' bellissimo questo attacco. In realtà, vi dico questa cosa, anche se l'avrei voluta tenere nascosta. Perché penso di averlo tagliato, ma sicuro sì. Mentre andavo da 8, ho trovato un'altra rapina come questa. Solo che ci sono morto. Perché erano tanti, tutti con le pistole. Ho sbagliato un paio di schivate, anche perché non so ancora schivare benissimo. E mi hanno colpito tutti quanti insieme. Magari dovrei fare qualche prova, proprio con questi NPC qui, che sono praticamente niente. A premere cerchio ogni volta e cercare di imparare il pattern per evitare schivare. Comunque, abbiamo sventato la rapina. Dovremmo chiamare qualcuno per questi soldi. Però non è compito nostro, a quanto pare. Quindi direi di assalire sopra il palazzo dove volevo andare prima. Attiviamo la torre e poi mi sa che andiamo a fare l'ultima cosa. No, in realtà no. Se, beh, dipende quanto dura. Però se dura poco, penso che ancora due cose di storia principale ce le riusciamo a fare. Sarà la terza oppure è la prima di una nuova area? No, ok. Ok, copertura completata. Non ho letto il nome della città, ho visto troppe lettere strane messe vicino. Comunque abbiamo completato la copertura in questa zona di città. Beh, direi quindi di andare al nostro obiettivo. Se ci sarà qualcosa, ahia, in mezzo, forse ve lo farò vedere, però se è tipo una rapina o altre cose che abbiamo già visto, se è troppo monotono non ve lo lascio. Mentre arrivavo al nostro obiettivo ho cambiato zona di città. Sono arrivato sopra a questo palazzo della polizia, chiamiamolo così, in modo bruttissimo. Però devo attivare questa torre, proprio appunto perché ci sono arrivato, me la sono trovata così davanti che fai non l'attivi. Uno di tre, quindi siamo in una zona nuova, però sempre meglio avere la mappa che non averla a questo punto. Mi saluterà questo poliziotto? È maleducato? Beh, mi sa che è maleducato. Voi mi salutate per caso? Niente, vabbè. Cioè, in questa città ci sono solamente poliziotti maleducati. Va bene, andiamo avanti. Manca poco, mancano 100 metri al nostro obiettivo, però prima c'è questa rapina, ma penso che ve la taglierò. Siamo quasi arrivati all'obiettivo, non so quante cose vi avrò lasciato, ma ho sventato tipo tre o quattro ravine, mi sono girato la città, ho perso un sacco di tempo a cercare un altro zaino che non ho trovato. Comunque siamo arrivati, è qui che dobbiamo andare avanti. Beh, non mi renderà ricco, ma... Lui sembrava tenerci molto. Vedrò di fare il possibile. Apri altre stazioni di ricerca in città per ottenere gettoni extra. Ok, direi che me lo aspettavo molto diverso Harry Osborn, sia a voce che dalla fotina che c'era sul telefono. Le stazioni misurano l'inquinamento nell'aria. L'obiettivo è rilevare le sostanze contaminanti prima che raggiungano livelli tossici. Penso che l'Aoscorp speri nel fallimento del progetto, perché potrebbe inchiodarli alle loro colpe. La quantità di idrocarburi policiclici nell'aria è oltre i limiti. È in aumento. Di questo passo rischia di essere letale. Le particelle formano degli agglomerati. Piccole nubi di smog. Posso attraversarle per prelevare dei campioni che mi aiutino a capire da dove arrivano. Beh, prima tutto questo smog non c'era, però effettivamente la città in realtà è davvero così. Anche se ai nostri occhi non si vede molto bene, proprio perché è tutto gas. Quindi è una specie di aria, anche se ha aria sporca. Noi non lo vediamo. Comunque devo passare in mezzo ad otto nuvole, a quanto pare. Sono a tre. Dovrei riuscire a vederle. Eccola, infatti, sono tutte nerissime. E poi sono proprio vicino a delle fabbriche. Proprio appunto per far capire che è colpa delle fabbriche se c'è tutto questo smog. Ma in realtà ha anche delle auto. Però sicuramente le fabbriche hanno una colpa maggiore. Comunque già sono a cinque. Sono segnate anche sulla mappa dove sono queste nuvole. Quindi in realtà non è nemmeno troppo difficile. Anzi, me l'aspettavo più difficile in realtà. Non so cosa sono questi obiettivi che faccio ogni tanto che penscono scritti di sopra. Questa nuvola qua, dov'è che si trova? Ce ne sono due vicine. Che sono poi le ultime due che ci mancano. Quindi direi che le prendo e vediamo che cosa succede. Penso che ci sia una cutscene. Ora che prendo l'ultima. Ok, no, niente cutscene. Però devo ritornare lì sopra. Ok, no, avevo praticamente sbagliato. Cioè, pensavo male. Devo fare delle foto, immagino, alle fabbriche. Perché se devo fare le foto alle nuvole non ha senso. Arriviamo qui. No, ok. È una macchina. Ma che cosa è successo? Vabbè, devo fare la foto, quindi. Vabbè, fai la foto. Come si fa? No, ho sbagliato. Non mi ricordo. Dovrebbe essere R2 e R1. Forse non dovrei farmi vedere. Però, a questo punto, che fa? Devo fare una foto e basta, quindi. Foto. Immagino si debba vedere la targa. Anche perché se no non ha senso fare una foto alla macchina e basta. Ne mancano due, quindi direi di muoverci. Giusto perché sono curioso di sapere dov'è che dobbiamo andare a parare. Perché non ho capito ancora effettivamente che cose che dobbiamo fare. Facciamo la foto alla macchina. È l'ultima. Dov'è? Non ce l'ho sulla mappa. Forse sì. Aia, ma perché succede questa cosa sto vicino a queste macchine? È la seconda volta, anche alla prima. Guardate, a questo punto, visto che sono vicino a questa torre, direi di attivarla. Ma tanto perché sì. Ci sono vicino. Ne approfitto. Dov'è che sta? Qui sopra, ok. Magari, visto che sono anche tantissime queste torri, perché la mappa è grande. Quando le dovrò attivare, anche se non è che ci metto chissà quanto tempo, però potrei tagliarle e farvi vedere solo che le ho attivate. Oppure non farvi vedere proprio niente e dirvi guardate ho attivato la torre, infatti ho la minimappa. Vabbè, è la seconda in questa zona, quindi ce ne manca una, che vedo già in mappa. Però mi sa che il segnalino blu, che sto vedendo, è la terza macchina. Oddio, no, non è una macchina, lo vedo da laggiù. È una fabbrica. Che è quindi quello che avevo detto. Due macchine e una fabbrica. Proprio perché, allora sono le tre cose, no in realtà due, perché abbiamo fotografato due macchine che inquinano sia le auto che le fabbriche. Muoviamoci, facciamo tutti questi fili che collegano. Non lo so. Facciamo vedere pure il fumo. Siamo praticamente dei fotografi fantastici. Però effettivamente era il nostro vecchio lavoro. Lavoravamo al Daily Bugle. Ok, quindi abbiamo fatto questa missione. Non ho capito, cioè in realtà era principale, però introduceva una cosa secondaria. Comunque abbiamo finito e sentiamo l'audio. Che è successo? Non era dietro le sbarre. Esatto. Ma una delle guardie l'ha fatto gentilmente uscire dalla cella e gli ha ridato il costume. Avrei scommesso che lavorava per qualcuno. La guardia ha detto qualcosa? Non molto, visto che è morta. Chi ha architettato l'evasione di Shocker non voleva testimoni. Cavo. A giudicare dalle telecamere, la guardia sembrava in stato di trance. Inoltre, ma potrebbero essere state le luci, i suoi occhi sembravano luminosi. Inquietante. D'accordo, vedrò di ottenere qualche informazione direttamente da Shocker. In realtà volevo staccare, però a questo punto andiamo a ribattere Shocker, visto che non ci dovremmo mettere molto secco come la prima volta. Faccio un taglio direttamente così dura di meno il video e arriviamo all'obiettivo. Forse avrei dovuto far scorrere di più l'audio di MJ, però sono arrivato all'obiettivo. vediamo cosa succede e battiamo Shocker. A quanto tempo. Non sono un avvocato, ma non stai violando la libertà a vigilare? Ops, siamo bloccati qui. Giochiamo a obbligo verità? No? A schiacciapollici? Ok, appugni in faccia. Wow, ora i tuoi guanti sono digitali, eh? Come preferisci? Vuoi combattere? E allora combattiamo! Amico, voglio sbatterti in galera per parlare di scienza con te. Ricordi il nostro primo scontro? Io ero giovane e stupido. Tu sono stupido. Tu parli troppo! Volevo sentirmi qualche dialogo in combat, anche se alla fine non dicono moltissimo. Però, beh, in realtà Spider-Man fa qualche cosa divertente. Però non mi aspettavo una boss fight qui. Sono stato già colpito troppe volte. Ahia, vabbè, basta. A questo punto mi faccio uccidere e rinizio da capo perché non è possibile. Devo imparare a schivare. Non so quanti try vedrete. Penso nessuno, cioè solamente quello là buono. Questo è il mio quarto e ho iniziato gli altri tutti così. Sia il secondo che il terzo. Il primo try forse ve l'ho lasciato, ma non lo so. Comunque ho imparato che devo colpirlo con gli oggetti che ho qui a disposizione. Che li devo lanciare contro e evitare tutti i raggi. Ahia, non ce l'ho fatta. Che mi spara perché appunto mi fa male. Comunque è una fantastica boss fight. Non è pesante per niente. Non è nemmeno difficile in realtà. È solamente che gioco da poco e non so ancora fare tutto. Non mi ricordo nemmeno i tasti a volte. Però già il fatto che posso oscillare qua dentro è buonissimo. Perché così almeno posso evitare i suoi raggi tranquillamente. E poi ogni volta che ho la concentrazione, visto che qui non ho la conseguenza di tasti triangolo cerchio, mi curo ogni volta appena mi toglie un po' di vita e cazzin. Ok, già lo stavo immaginando. E' sempre al meglio di due, mi sa. E sono stato colpito due volte di fila. Quindi almeno sono passato alla seconda fase della boss fight. Non ci sono mai arrivato. Immagino che sia la stessa cosa. Quindi mentre sta attaccando, esatto sì, devo colpirlo con gli oggetti che ho qui in giro. E poi andargli vicino a usare triangolo. E' ok, il pattern è lo stesso. Però il modo in cui è strutturata questa boss fight mi piace un sacco. Ma poi il fatto già solo che siamo Spider-Man e che posso oscillare intorno a questa stanza è fantastico. Allora, come prima, devo colpirlo tre volte. Anche perché è, diciamo, il minimo sindacale tre volte per tutte le boss fight di qualsiasi gioco impossibile e immaginabile. Però devo stare attento a non farmi colpire. Ehm, ok, ci siamo. Ehm, lo devo prendere. Adesso penso che ci sia la cutscene finale, proprio perché abbiamo finito. Infatti sì, cutscene finale. Ok, credevo che avevamo finito e invece c'è ancora un'altra fase, una terza fase. Però ora lui è bloccato al centro. Immagino che appena si stanga piglio gli devo lanciare qualcosa. Eh, però se non trovo niente da lanciargli non so che fare. Ahia. Eh, ok, devo imparare la terza fase. Aspettate, devo quindi evitare tutto. Eh, sì, non mi interessa dell'abilità del costume. Tanto la concentrazione in questo momento non mi interessa. Eh, non so che fare. Ah, ok, sopra. Ho visto, ho visto, ho visto. Eh, quindi adesso devo evitare e colpirlo con le cose che stanno lì su. Quadrato. Ahia, eh, devo aspettare che si stanca. Eh, adesso, adesso sì, ce la faccio, ce la faccio. Ok, eh, ok, devo fargli cadere quel coso addosso. Se magari riesco ad evitare, eh, non muoio. Non so quante volte devo, eh, far, diciamo, scendere questo oggetto. Ho paura che mi attacchi. Vediamo un po', magari... Ok, no, erano solamente due volte. Eh, vediamoci la cazzina a questo punto. Ok, abbiamo finito e ci abbiamo messo anche un buon tempo. Joker è tutto tuo. Ottimo lavoro. A Raftel lo aspetta una cella speciale tutta per lui. Non ci sfuggirà ancora. E poi credo proprio che stesse lavorando per la banda dei demoni. Banda dei demoni? Sembra un titolo del Daily Bugle. Ehi! Il Bugle è un organo di stampa rispettabilissimo. Su questo avrei da orientare. Beh, so che alcuni dei loro reporter sono in gamba. Comunque, hai ricevuto altri rapporti su questa banda di... Eh, tizi in maschera? Ti aggiornerò appena possibile. A proposito, quanti danni hai causato dentro quella banca? Credimi, non vuoi saperlo. Non dovevo chiederlo. Allora, ragazzi, io non c'è ancora l'obiettivo, quindi nel frattempo mi vado ad attivare la torre che vedo in mappa. Però vi saluto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti e se non siete ancora iscritti. Di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici. E se vi va, in descrizione c'è il link per il mio Instagram. Venite a seguirmi. E noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao! Vi gottano 1165 on the east outside the Manhattan Bridge. It's a flatbush. 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 Let's go.